Stai cercando di comprare un piano e ti senti perduto? Questo è il video giusto per te. Ciao a tutti, il mio nome è Leonardo Barilaro e oggi voglio dare qualche suggerimento su cosa scegliere quando vuoi comprare un piano che può essere nuovo o secondhand e cosa scegliere in vostra avvaluazione. Non parlerò di pianos e costruzioni alti, ma mi concentrerò sull'avventura che la maggior parte delle persone sceglie. Stiamo continuando l'avventura in questo bellissimo playground che è l'amato di fine tunes. Ci sono molti pianos, come potete vedere. Grazie a tutti per aver preso con me. Grazie a tutti. E vorrei chiederti a te, immagino, che sono una persona che ha sempre stato interessato iniziare il piano e finalmente ho deciso di studiare il piano. Ho avuto le mie prime leggi e voglio comprare un piano per la mia casa. Cosa consiglieri di controllare? Prima di tutto, per evitare scambi, che possono essere comuni, infortunatamente, come in ogni industria. e su quali parti per mettere il focus. Ci sono alcuni consiglieri molto semplici. Un altro consiglio che vorrei dire è che in ogni caso, se sei un tecniciano che ti credi, quando vai a un piano showroom, portate il piano con te. Perché, ovviamente, è un'importante investimento, il piano, che può essere un upright o un grande piano, e è meglio avere un occhio clinico che guarda l'instrumento. Se non, questi sono i miei tipi che Andrew può dare. Quindi, cosa consiglieri? Prima di tutto, se hai visto un piano che ti piace come estetico, cosa dovresti controllare? Grazie a te, Leonardo, per essere qui con noi. Ora, oggi stiamo facendo questa domanda molto complessa. Cosa faccio vedere quando vuoi comprare un piano senza sapere nulla di pianos? Prima di tutto, io suggerisco, evitare le pianos molto semplici. Perché il progetto di apprendere il piano dipende molto sulle qualità di pianos. Non stiamo dicendo che vuoi comprare il miglior piano nel mercato, ma, almeno, vedi un piano decente. Come Leonardo ha detto, che vedendo il migliorato, 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 è qualcosa che non si può evitare. Perché il piano è stato fatto in anni fa. poi, 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 provate tutti i keys, sicuro che tutti i keys sono spiegati. Quando spiegare il piano, spiegare ancora per la risposta, come si è iniziato, in caso il risponde al tuo, anche se non sei un giocatore, alcuni ricercati, che, 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 mi guida per vedere se il piano è mantenuto bene. Questo è questo, sui l'acqua praticare. Poi, abbiamo un guardo, dentro del piano. Prima, abbiamo testato la giocatore. Possiamo dare una consiglia. Se non vedi cosa è dentro del piano, controlla l'altro video, dove l'Andriu ha avuto più dettagli. Quindi, se vedi quello che è dentro del piano, ora, andy will explain you what to check about the main components so after we checked the keys which are all playing and response well we go inside have a look inside see the tuning pins see the strings it's very visible very easy to see all are there all meet without rust or almost without any rust see the dumpers are in order check the right pedal see if the dumpers are working all together well and and fine then again there's the soundboard underneath this thing which is highly visible see check for any visible cracks maybe which which might you can use some emergency light or something to make sure there aren't a big cracks in the soundboard and see the pins that are are not split this is the bridge where the the string cross the soundboard to the spin attached to the spins and obviously you need to have not the perfect ears but at least good ears so when you play a melody it's there if the piano is completely out of tune it doesn't make sense forget that piano if it sounds like a far west onky tonk donky piano forget it because you can't tune it properly and also the learning process of a student that begins can be really affected as you were because you can feel frustrated you don't feel comfortable and the experience can be negative so he was saying don't buy cheap pianos I agree when I started when I was a kid I was lucky because my dad bought a good upper light piano when I was still in Italy not here in Malta of course and I'm thankful to him because he didn't go to buy the cheapest one because you know a parent can think ah my kid is just starting and stop so I don't put a big investment in that case I suggest to rent because I think there are affordable choices you can rent for one two years maybe some cases you can also decide to buy that later so there are a lot of combinations so my suggestion is as a first piano above all if you don't have a lot of budget don't spend 10,000 euro but also don't go for those type of pianos that are like on sale for 500 you can find for 500 euros but when you play you have a far west honky-tonky 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 effect so thank you Andrew this was a very good idea a very good overall general vague idea and what I suggest if you are totally lost you take a technician with you and he would guide you very well okay very good now to continue this small journey inside a piano showroom I will give you my personal opinion on a different types of piano starting from a digital one I will show you an upright piano and the two different kinds of grand piano and there is a reason for this choice and I will explain you why let's start with a digital piano and let's see together if you are able to see the differences between the sounds of the different instruments this is a high-end digital piano is a Casio digital piano that has also a real mechanic mechanism inside and is the starting point of our evaluation for every piano I will play the intro of a Mozart sonata pretty famous about students that are playing the piano since one or two years let's say if I study and the introduction of pagodes of Debussy piano plays in bright rhythm Grazie a tutti. 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 Se bisogna chiedere tra un piano molto cheap, honky-tonk, upright e un piano digitale, definitivamente per il digitale. Inoltre, passiamo alle altre opzioni. Ora vedremo un piano upright. Questo è un nuovo Kaisenberg. È fatto in Cina con tecnologia germana. Ora siamo già in un'era di globalizzazione, con una scuola di knowledge. E questo piano è circa 4.000 euro. E vediamo come si chiama. Grazie a tutti. 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 La mia consiglia è di non avere una sorta di pregiudizia in referenza a pianos che hanno fatto in Cina, perché la tecnologia ha evolvido molto, e ha anche migliorato molto. C'è una compagnia di skills engineering tra gli americani e gli asiani piano builders, quindi la mia consiglia è sempre di equilibrare cose, è sempre un compromesso, perché quando è vero che un piano come questo ha una qualità superiora, per sicuramente è meno industrializzata, che ha fatto questo piano diventare vivo, è anche vero che con un piano vecchio abbiamo bisogno di considerare fattori come l'age, le condizioni in cui è stato trovato, bisogna considerare molte cose. Quindi, diciamo, abbiamo un budget di 6.000 euro, come il prezzo di questo piano, abbiamo questo 6.000 euro, potete trovare qualche Baby Grand in Cina, con diversi nomi per questo prezzo, potete trovare anche un piano come questo. Potete decidere cosa stiamo cercando, provare gli strumenti, e provare a capire cosa vuoi, perché, credo, come mi ha spiegato, ho spiegato molti diversi tipi di pianos, non solo in alto, ma anche in alto e in alto, E molte volte, potete essere sorpresi di cosa trovi, potete trovare, potete essere molto sorpresi di un piano Nezian, e potete essere una esperienza molto delusione, per giocare come alcune famose brand di ultimi pianos, e li trovare in condizioni in buone condizioni. Quindi, è sempre un compromesso e ogni caso deve essere considerato per loro. Ora, vediamo come si suona questo, credo, bellissimo, bellissimo Bachstein. ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.